Ciao a tutti, sono Marivido Games e oggi continuiamo con The Conceal, iniziamo l'episodio 2 e niente, andiamo avanti. Comunque sicuramente sarà stato qualcuno che era lì nella stanza, con me che mi voleva restare. Iniziamo l'episodio a trovare la mia moglie, senza la mia moglie. Ci sono centri di uccidere i ragazzi, che sono andati all'episodio. Alla posso dire è che sto cercando per mia mia moglie. Cosa crede che la mia moglie è capace di torturare un bambino? Un'accordo per i canoni. Lord Mortimer assurde me che si tratta di prendere il progetto, per favore della mia moglie. Oh Dio, siamo nella cacca. Ufficio di Lord Mortimer, 22 gennaio 1793 Bene, cosa fanno adesso? Si ammazzano? Aspetta, devo vedere. La tua vulnerabilità, non facciamo che mi chiedi qualcosa. Come cacchio si chiama sto che? Da scoprire. Ma se si ha scritto che l'aveva scoperta. Ancora niente. E non so se possa essere collegata alla scomparsa di Sara. A cosa vi riferite? C'è un legame con mia madre? C'è un legame con mia, ho spero che ti'll let me know. In the early hours of the morning, Elizabeth Adams was found dead in her room. Savagely mutilated with a knife. I'll get straight to the point, Louis. According to the initial elements at my disposal, you were the last person to see her alive. Yes, last night we, uh... Do you suspect me? I want you to tell me everything that happened last night and leave nothing out. Tell me, how did the evening begin? I was with the Duchess. I was with the Duchess! Duchess Hillsborough and I were returning to our rooms when Elizabeth came up to us. She was in a state of panic and assisted that she needed to speak to me. She said she feared for her life. I took my leave of the Duchess and followed Elizabeth to her room. Continue. She insisted we have a drink without which she refused to confide in anything. What exactly did she want to speak about? She claimed she saw my mother the previous evening on the cliff, if I remember correctly. Interesting. I will send someone as soon as possible. But do go on. I refused to go on drinking with her. She already seemed drunken. Her conversation became confused. So, then she ordered me to get out. If only I'd stayed. Don't blame yourself, Louis. How could you have known? But thank you for this new information. Louis, I shan't hide the fact that this tragedy puts me in a very delicate situation. I cannot risk upsetting the smooth operation of our next conference. But the case cannot remain unaddressed. What do you want to do? I must reassure my guests and justice will be done. And for that to happen, I must ask for your help. Why is that? You met Elizabeth. You spoke together, I believe. She trusted you. Listen, Louis. Find out who could have committed this murder. I refuse to believe that one of my guests is the murderer. I want to know who is responsible for this. And I trust you. You have my backing. You must stop at nothing. Can I count on you? Of course. How would you like me to proceed? Maybe you could start by going to the scene of the crime. Elizabeth was attacked in her room. Great, Katini. Ci sono dei sospetti. Qualche dettaglio su questa tragedia. Can you tell me anything else about what happened? Now, Louis, I wouldn't want to influence you. Get over there and form your own opinion. Ci sono dei sospetti. Do you have any suspects in mind, my lord? I spent most of the night talking with Sir Gregory and his eminence Piaggi. So, I think you can remove them from the list of suspects. Monsieur Bonaparte and President Washington left the party after midnight, I believe. They were tired and went up to bed. Mm-hmm. Okay. S'ha dato il loro consenso tanto, però hanno fatto sparire le prove. Wow, madonna mia. Ma se qualcuno cade qua, amore. Posso visitare qua per vedere se ci sono... se qualcosa di interverso. Niente, bene o male, non ci ha arrestato. Non crede, almeno penso, non crede che siamo stati noi. E comunque ci è andata da culo. Comunque, sarà stato qualcuno di... sicuramente qualche ospite è stato. Poco ma sicuro. Dobbiamo scoprire chi era. Ah! C'è il tipo qua. C'è il tipo. C'è il tipo di... Perché c'è altro, c'è altro E io un po' lui lo sospetto Beh, questo è un nuovo indizio Quello è la malmenata Vabbè, questo l'avevamo capito che era stata picchiata, ovviamente Però dobbiamo trovare un assassino Quindi il primo sospettato direi che è lui Anche Bonaparte si aggirava lì Mmm, però Niente, non c'è altro Ho visto tutto, possiamo andarcene Bene, questa stanza di chi è? Anche tu sei tra i miei sospettati Cosa ci fa in corridoio? Non digli niente per il momento Insigne che sembra sospetto Parla di morte di eriz Parla di eriz Questo come mai si aggirava Per la qua Cioè Che cacchio Hanno fatto Secondo me qualche lotta c'è stata Poverina e poi gli hanno sparato Magari O se no era talmente ubriaca Manco se ne accorta gli hanno sparato Cioè l'hanno accoltellata Se non sbaglio però l'hanno detto Quindi Vediamo Mamma mia poverina Però Oddio Mi ha fatto una bella vita Questa qua poverina Esamina i bracci Vabbè esaminiamo tutto Pian piano Mamma mia poverina Esamina Significato del cicatrice Vediamo Non posso esaminare niente Vabbè Vabbè E'nte esaminiamo il torso Mamma poverina Mamma poverina Un bastardo Ah ecco mamma, poverina torna il corpo, esamina la testa mamma oddio conosco questo odore, non lo posso dire torna la testa il naso abbiamo esaminato esaminiamo le mani osserva i polsi si ma secondo me era ubriaca quello che magari l'avrà uccisa poi non lo so se era una persona o due o di più l'hanno coltellata quindi no 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 che cosa c'è dentro va beh intanto riprendo no 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 troppo esticare la che st Insomma Sicuramente sarà l'ora del delitto Comunque Eh Eh appunto Ricordo i libri di mia madre Eh Oddio Andiamo più avanti Vediamo Un dracma Un notebook Written in Elizabeth's handwriting È scritto in un mix di diversi linguaggi Non è molto facile da lavorare Mia cara Elizabeth La tua ultima lettera mi ha preoccupato non poco Ho trovato fredde le tue parole Come se le emozioni ti avessero abbandonata Nostro padre ritiene che gli effetti secondari delle cure ti procurino ancora scompensi È pure fiducioso che passeranno presto Devo chiedergli Mi auguro sempre che riusciremo a vederci nuovamente Un giorno o l'altro Scrivi presto Con affetto a tua sorella Abigail Penso si pronuncia così PS Non dimenticarti di farmi sapere che regalo desideri Ok Quindi lei andava d'accordo con sua sorella Vedi dovevo mettere sua sorella allora Mia cara sorella L'unamento del nostro incontro è stato come una pugnalata al cuore Nostro padre ci ha detto che per il tuo bene Ma è stato colpa sua Ritiene che la situazione sia peggiorata Che vederci potrebbe essere pericoloso per entrambe Se solo sapessi dove ti trovi Credimi verrai a confortarti Verrai a confettare Verrai a confortarti Non ricevo le tue notizie Da ormai molto tempo Scrivi Te ne prego Con affetto a tua sorella Abigail Spero che Talismano Che accusa Questa Mia Ti piaccia Elisabeto Ormai sono disperata E dubito che valga la pena Scriverti Non so nemmeno se ricevi le mie lettere Nostro padre controlla sempre più La mia corrispondenza Sono certo che passa Al vaglio I nostri scambi Fortuna vuole Una delle domestiche Stia aiutandomi A far sì che le mie lettere Ti raggiungano Ma non ancora Ma ancora nessuna risposta Ti penso spesso E prego ogni giorno In poterti riabbaciare E stringere forte Non ci vediamo Da troppo tempo Ti prego Rispondimi Ti prego Con affetto a tua sorella Abigail P.S. Quella orribile donna È venuta anche ieri Ha parlato a lungo Con il nostro padre Non ho capito Tutto ciò Che si sono Spondetti Perché parlavano in francese Ma sono certa Che stessero parlando di te Quella orrenda donna Non è che è sua madre Ma non lasci su le impronte Vabbè che hai Quei tempi Non è che È come adesso Allora Esamina l'arma da fuoco Osserva l'impugnatura Ok Secondo me È stata una donna Non so voi raga Ma penso sia stata una donna E sua sorella Che diceva Che era venuta A trovarla Una strana donna Non è che tua madre È una stronza Tanto per sapere No perché Osserva Le fiale Il label shows Che questo laudanum Che viene direttamente D'America No wonder If Washington Is involved È È È È E se Elisabeth non fosse molto grande mi credo che non avrebbe avuto un'attività. E' un'attività molto forte per pericolare qualcuno come questo. Beh ragazzi, non so proprio cosa pensare. Ho visto tutto, quindi non penso abbia dimenticato qualcosa da vedere, boh. Che ha messo sul quadro questa stanza? Ma date la porta, cura. si c'era un pezzo di vestito che quel pezzo di vestito sinceramente ragazzi non so proprio di chi sospettare niente ragazzi io direi di finire qua spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un like, commentate iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao